Ciao ragazzi, finalmente siamo ritornati con la serie I Viaggiatori Dopo una settimana abbiamo cercato questo cazzo di posto Inutilmente perché abbiamo Alvis che ha problemi mentali e ci ha fatto mettere... no Lui ci ha messo 50 anni per scegliere casa E finalmente abbiamo trovato il posto e inizieremo gli obiettivi Come ho fatto vedere all'inizio abbiamo già scelto tutti i nostri obiettivi E per questa stagione questi obiettivi li faremo... purtroppo sì, dobbiamo farli tutti Vabbè, per adesso è... purtroppo è notte, quindi siamo fottuti un po' Però ora se Alvis... Fammi paura! Sì ma fai la cesta e metti le cose dentro che mi serve la roba Cioè mi servono gli oggetti? Lui ving veloce troia Mi, 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 mi Spec Un pertone Non sono stato io Oh Comunque ragazzi, ragazzi, al banco da lavoro, ambasì Questo è un posto bellissimo Sì guarda, è stupendo, guarda Fidi fidi Oh A me piace Vuoi fare una rata gigantista perché cosa abbiamo tutta la visuale attorno No facciamo sett'ottopiani Sette e otto piani comunque ti do una brutta notizia c'è uno zombie laggiù la cosa brutta no vabbè troppo lontano no lo so l'ho visto però 4 vado sì visto che mi serve pietra ma il legno non ce l'hai non mi parla vai parla in questo video vorrei dire la mia perché mia eeeh nella mia casa e poi vorrei iniziare ad andare a fare una brutta dove inizieremo a prendere i materiali dove inizieremo a prendere i materiali dove inizieremo a prendere i materiali ti diamo allora va comunque sto dicendo abbiamo finalmente scelto i cavoli di obiettivi eeeh i nostri obiettivi mmm non so se vi piacciono o no però spero che si lo fottono questa serie sembrerà vabbè si lo so che non se ne fottono no annuncio ah che cazzo c'entra mi fai continuare i miei discorsi cioè noi non vogliamo sentire le tue cose inutili che dici in ogni episodio non sono potenti vabbè però qualche torcia potevi metterla eh non è che Gesù non paghiamo la luce nooo il canone ho messo un po' di torcia perchè non si vede un cazzo comunque come dicevo eeeh gli obiettivi sono stati scelti spero solo che questa serie vi piaccia cioè non sia troppo noiosa cerchiamo sempre trovare modo di farvi divertire cioè io cerco non so poi se vi piace o no ragazzi non mi piace non mi piace questo gioco vabbè comunque il nostro primo obiettivo è quello di completare la cazzo di casa oh allora quindi completiamo questa cazzo di casa facciamo gli arredamenti vieni qui tronzo si ma aspetta aspetta ma non dovevamo parlare di quel legno figo quale legno figo non esiste quello la rosso idiota no quella è la come si chiama il pavimento ah ok cioè io sa dove andare lassù lo prende allora guardate come sfruttare le zucche per qualcosa di utile allora vorrete voi che faccio una parete tutta il vetro o la parete vetro e legno così va bene così guarda eh così vabbè c'è sempre una bella casetta oh cazzo zombie 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 io non c'ho la spada eh non ti posso aiutare ti sta per mangiare non lo vedi porco giuda no si ma aiutano ma vabbè quanti c'è tutta grazie mi hai ammazzato tu idiota me l'hai buttato addosso mi hai buttato tu addosso a loro si ma mi hai buttato tu addosso a loro ok userò il tele il teleport perchè io preoccupato tu no no ti vieni a pi no vai affanculo cazzo ho sbagliato il comando ragazzi vedete vedete no no stavo sbagliando allora imbrogli imbrogli non sono imbrogli sei tu coglione dove stanno le mie cose porco giuda ti ammazzo l'amore ok dammi la spada che mi serve dammi questo che mi servo questo mi serve questo mi ho dato tolla dentro quello che ti serve la rubrica ma dove sta la mia ascia piccone dove ne hai messi lascia i miei ceroli ah no piccone poi da 4 dove abbe dammediana fratella qua qua e buta stacquaterra non c'è niente te l'hai presa tu stacquaterra vedi che stai laggando probabilmente perchè non c'è un cazzo stacquaterra mio ti ammazzo troia eh però non mi dammi la mi serve devo prendere la legna ah beh vedi che sta qua vedi questa qua è nuova è bavata è perchè non l'ho mai usata grazie a cazzo no la mia si si è nuova idiota comunque vabbè ho capito mi devo fare gli attrezzi nuovi perchè tu sei una testa di cazzo tu cazzo fai scuola tu cazzo fai scuola se dai una testata sul pisello i nostri cari tele i nostri cari telespettatori che cazzo c'entra ah comunque completiamo sta casa perchè io non voglio fare le cose lentamente voglio cioè voglio aumentare la velocità quindi cerca di fare la casa più veloce possibile io nel frattempo mi costruisco i primi attrezzi e inizio a prendere la legna così oh cazzo potevamo scegliere un posto mio c'è la legna e ce l'abbiamo in culo al mondo no ce l'ho io la legna e tu io non cazzo e tu non cazzo comunque si abbiamo messo anche casa sull'albero perchè a me piace cioè questi alberi sono perfetti per fare una cazzo di casa sull'albero sì ma tu non sai scrivere come fai a mettere ma che cazzo stai dicendo comunque stavo dicendo vogliamo fare la casa sull'albero cioè visto che ci sono questi alberi che sono anche belli alti e ci sono alcuni alberi che sono fatti abbastanza bene ho deciso di cerchiamo di costruire casa su un albero oppure possiamo anche noi costruire direttamente l'albero e metterlo e mettere e fare anche la casa sopra l'albero cioè facciamo l'albero artificiale però poi vediamo per adesso ci ampliamo a fare la cazzo di casa perchè ne abbiamo fattutamente bisogno ma smetti di parlare sulla mia voce porco giuda perchè stai parlando mettiamo questi qua che cosa non devo allontanarmi troppo un'asera cittadino con la legna brutto parlato votare la legna stando la cesta io devo stare nella cesta ok c'ho gli alberi di quercia c'ho gli alberi di quercia ma deve che ce ne ho quattro ma li facciamo crescere così abbiamo anche la legna qua vicino senza che dobbiamo andare in culo al mondo a Gesù ma quanta lana abbiamo o più che altro? ce l'hai eh tu un letto vero? si ok vado a prendere un attimo l'altra legna eh legna l'altra lana che cosi facciamo i letti e quando viene buio andiamo a dormire ce l'ho detto eh ma ce ne serve un altro idiota però dormiamo vicino dammi la lana dove cazzo è la lana dobbiamo dormire vicino comunque lo so questo gioco a volte mi sconverge la vita cioè io ho ucciso l'ape che non mi ha dato lana un zotà ok ora c'ho tre pezzi di lana sto arrivando ma che cazzo stai facendo? che cazzo sono sti cose? pilastri? ma stai cambiando colore della casa? no e perchè? non hai detto che volevi questo? va figo non lo so cosa tu stia facendo vabbè forse noi di quelle là che le vengono vabbè vabbè io faccio il lettuccio caldo caldo wow come è brutto ecco fatto finalmente così possiamo dormire non perdiamo altro tempo per la notte i mostri che ci attaccano perché con Alvis morirò 10.000 volte eh i malatucchi in cui ci batti ah comunque ci sono qua gli alberi di quercia ci sono alberi anche di quercia quindi abbiamo altro legno che ti può servire per la costruzione della nostra casetta solo che siamo in culo al mondo non sappiamo nemmeno dove sta l'acqua quindi perfetto ma va bene poi la cercheremo perchè dobbiamo fare anche il pozzo dell'acqua ho sempre desiderato a farlo tu non avrei mai fatto un punto? no mai anzi questi sono tutti i mongoloidi tieni ti vomito in faccia al legno brutto stronzo no no ma che cazzo stai combinando? posso farti una domanda? si ma voglio la sabbia eh devo andarlo a prenderlo vado a prendere oh dove cazzo sta un po' di sabbia con tanti posti dovevamo scegliere questo dove sta noi le pecore e le scime ah c'è il mare lì giù non l'ho visto non l'avevo visto ah no no ah c'è il mare il mare il mare perfetto ce l'abbiamo proprio vicino non me ne sono proprio accorto c'è ora non me ne so accorgere cazzo allora perché non me l'ha detto puttana perché secondo te veramente sono un coglione va bene ma comunque prendiamo la sabbia qua è stato mi ricade ne serve in quintale di sabbia no 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 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 20 22 24 26 28 insomma abbastanza potevi dire vabbè uno stack di 64 ok te ne porto 40 se ti vanno bene perché mi sei rotta la paletta allora come dicevo ragazzi in questa serie no in questa serie che cazzo sto dicendo volevo dire in questo episodio spero di finire questa cazzo di casa perché mi sono stancato di fare questa cazzo di casa che stiamo perdendo anni vita io non so cosa stia facendo casa è bella così color merda non so cosa cazzo stia facendo sto ragazzo ma va bene comunque ti metto nel forno 40 pezzi di sabbia e adesso io metto a fare una miniera da qualche parte così prendiamo del carbone perché non ce l'abbiamo più quindi vado a fare dei lavoretti aspettamente mi faccio anche la paletta non mi piace così la mano mi faccio anche la paletta 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 mi si è imbagliato ho detto tu sempre bene ma comunque le scimmie fanno ciao un pezzo di carbone perché devo andare giù le miniere mi serve carbone non mi piace questa casa ma che stai dicendo? tu stai facendo la casa non mi piace tu vuoi morire secondo me è brutto tu sei brutto no mi piace sto materiale oh eh mi piace io vado a fare la miniera perchè se guarda a te mi viene voglia di suicidare cazzo sto facendo ok dove sta la palla? mi sono scavata una piccola grotto tu hai scelto io? cerco il carbone sperando di trovarlo e non perdere un'ora solo per cercare il cazzo di carbone il cazzo di carbone bene che vuoi? una palla di ferro vuoi una palla di ferro? no tengo la palla di ferro ah ok perchè ti sei fatto la palla di ferro? no palla palla si ho capito palla non ho detto palla scusa scusa ora ora io ho capito anche un po' di pietra non so se può servire credo spero c'hai la legna di betulla? no perchè io non è che chissà quanta legna ho preso più che altro io mi so cioè tu mi hai ucciso almeno 50 volte vabbè? no tre volte sei a legna di betulla? no perchè? ma come perchè? non ce l'ho e perchè? perchè non l'ho preso e perchè? perchè sei una testa di cazzo e perchè? mi sale la depressione con te perchè sto cercando di scavare sperando cioè sto sperando una mini grotta se lo e potete merito zero carbone porco giuda dove cazzo sei? carbone di merda cioè io non non so questa serie sono proprio sfigata muoio non trovo un cazzo non faccio un cazzo sei sfigata tu madre comunque non puoi parlare perchè sei un coglione ragazzi ragazzi comunque questo episodio voglio fare bellissima la tua voce perchè fai come faccio? cazzo ha combinato ste laggando ste laggando di voce la tua connessione eh vabbè quello è il tempo pesce del boss del mera comunque casa così non mi piace si pacchi io ti ammazzo se non cambii casa ah mi piace casa così No, mi piace No, mi piace No, noi dovevamo farla in questo episodio la casa E ora mi piace Oh, cazzo, ho trovato qualcosa Una grotta Dove? Anche Del Fè, però ho paura di andare Non vengo io Vieni un attimo perché sei il bonotorce Sei andato giù, sono morto Come sei morto? Ma l'hai vista la grotta? No, farei tu Sta qua, l'ho creata io, idiota Io sono andato giù Come sei andato giù? Dove cazzo si è andato? Ma sono il boom Ma no, qua Sali, torna sopra, ma dove stai? Io giù Sali Dopo cinque ore il mio cadavere si troverà qui Perché lui non è tornato più Mamma, mamma Allora Sono caduto Giorgio Volevo raro Sono caduto porco giudo Sono caduto Ambo Comunque Vieni, vieni, vieni di qua, guarda Segui un attimo, poi parlerai, dirai quello che cazzo vuoi Portale che ce l'hai le torce, porco giudo Metti una torcia qui così capiamo dove il buco se no facciamo si guarda speriamo fare il petto è di dare qualcosa nel buco ci vuole la torcia stai zitto che vai andiamo ho fatto qualcosa per ricordare c'è la torcia vieni vieni non le mettere la sopra ci servono giù un coglione bellissime un coglione cazzo bellissime sto cazzo scendi scendi vedi c'è una grotta occhio perché non so se ci stanno mostri che cazzo stai facendo tu che cazzo hai fatto vado mamma mia ecco guarda ma questa è mia ok perro anche io l'ho trovato si ma ci serve più che altro o altro carbone hai trovato carbone eh finalmente abbiamo trovato cose utili per il nostro carbone fame si hai rotto il cazzo dove cazzo sei ah sta qua giù ma senza mettere le torce ma sei scemo eh ma io mica io ci vedo non ciò lasciamo ah ma qui c'è luce ma quanto cazzo di carbone prendilo ci serve tra poco viene buio quindi andiamo a dormire e mentre andiamo a dormire stoppiamo il video va bene oro ferro si va bene hai capito cosa ho detto creeper ora ragazzi nel frattempo che sei morto no peccato mentre 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 raccogliamo i materiali appena si fa abbastanza buio ci cioè andiamo a dormire e fermiamo qui il nostro video e ci vediamo nel prossimo episodio perché perché purtroppo il tempo è volato infatti andiamo a dormire è la casa non siamo riusciti a finirla è la casa colpa di albis è brutto questa è sempre colpa di albis quindi non è colpa mia prendetela con lui e casomai se volete la casa la costruisco io e banniamo albis dal nostro regno e costruiamo il nostro regno da soli comunque ti teleporto se non ti muovi eh no 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 ok ci manca un letto ma noi dobbiamo stoppare e noi cioè ora teleporto albis perché no 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 dobbiamo dormire va bene allora non non andiamo a dormire non andiamo a dormire fermiamo qui il nostro episodio guarda quanti minuti sono aspetti quanti minuti sono siamo a 20 minuti quindi è troppo e tagliare a due parti lo facciamo 40 minuti facciamo 20 e 20 no ci vediamo nel prossimo episodio ciao a tutti e speriamo che nel prossimo episodio riusciamo a finire la nostra casetta cioè spero dipende da albis se per il 2040 ce la farà comunque ragazzi ci vediamo nel prossimo episodio ehm lasciate un commento o un mi piace se questo video vi è piaciuto se questa serie vi piace vi piace vi piace e ciao a tutti qui da Yamamoto e anche da albis ciao ragazzi ciao ragazzi ciao